A voi napoletani, oggi faccio 56 anni e lo faccio con tristezza perché il Napoli ha perso con la Juve. Noi sicuramente a questa Juve le facevamo quattro goli, questo voi lo sappiate e se no domandale a tuo padre se non le mettevamo quattro goli a questa Juve, perché questa Juve non è quella che giocava contro di noi. Però voglio ringraziare tutto il vostro pensiero per me nel mio compleanno perché mi arrivano messaggi di tutti e soprattutto i napoletani. Io non tradisco, a me non mi importa quello che ha fatto Higuain, Higuain che continua a fare la sua strada, a me non mi importa. Io sono tranquillo perché io non ho tradito mai la maglietta del Napoli e il cuore mio è napoletano.